Ragazzuoli, allora, secondo video di giornata, secondo video in cui parliamo sempre di un olandese vista la partita di questa sera tra Olanda e Italia, che probabilmente seguirò in diretta su Twitch vi farò comunque dei aggiornamenti sul mio profilo Instagram, quindi seguitemi se volete vedere la live sia su Instagram che appunto su Twitch Parliamo di Rick Karstorp Io ero convinto pochi giorni fa che l'affare con l'Atalanta fosse praticamente fatto ed infatti, fatto ed infatti, avevo rinominato il video con ufficiale Karstorp all'Atalanta perché tutti quanti avevano detto che ormai era fatta Come nei migliori film al cinema, però all'improvviso è uscito fuori il cliffhanger il colpo di scena finale che stranamente non va mai a nostro vantaggio Cosa è successo? La trattativa tra l'Atalanta e Karstorp si è arenata non bloccata, arenata completamente Perché direte voi? Semplicemente per un discorso di commissioni da dare agli agenti che hanno portato avanti questa trattativa In parole povere, gli agenti del giocatore hanno portato questa trattativa alla conclusione però non si è trovato l'accordo per quanto riguarda i soldi da dare direttamente a loro non alla Roma, direttamente a loro Questo è quello che stanno dicendo i giornali e quindi la trattativa sembra essersi bloccata La Roma aveva accettato i 7 milioni di obbligo di riscatto del giocatore che si diceva fossero dati in base a un numero di presenze stagionali che probabilmente non so neanche se avrebbe raggiunto ma a parte questo E quindi l'Atalanta sta già virando su un'altra conoscenza del Roma e cioè Zappacosta in uscita dal Chelsea e che tornerebbe volentieri in Italia Io, parere mio, per il modulo dell'Atalanta non so quanto possa essere utile prendere lui perché io credo che Zappacosta sia più un terzino difensivo che offensivo più un terzino da difesa 4 che esterno di centrocampo nella difesa 3 l'abbiamo visto anche noi negli ultimi mesi con la Roma che sì, ha dimostrato magari delle buone cose però non ha quella spinta roboante che può avere un esterno ad esempio alla Bruno Perez non parliamo di un fenomeno ma parlo comunque di caratteristiche sul campo ma vabbè, lasciamo perdere questo Io resto veramente senza parole perché sembra sempre che ogni volta che tu stai concludendo una trattativa per toglierti un esubero della rosa attuale deve sempre succedere qualcosa che rovini il tutto provi a cedere Juan Jesus e non si trova l'accordo provi a darlo al Genoa e il giocatore ancora non ha deciso Fazio al Cagliari, hai trovato l'accordo, devi dare l'ok lui Karlsdorp, è fatta le commissioni agli agenti Schick, all'Everkusen, no perché un cazzo di dirigente della Repubblica Ceca ha il coronavirus e quindi è in quarantena e non può fare le viste mediche cioè veramente, sembra sempre che ogni volta deve arrivare un qualcosa che ci deve rompere i coglioni a me fa incazzare questa cosa perché purtroppo la Roma senza queste eccessioni non può far partire il mercato in entrata se tu non dai via questi giocatori che almeno hanno un minimo di mercato come pretendi di poter fare una squadra se hai ancora 30 giocatori in rosa? veramente io sono senza parole un affare che è praticamente fatto per delle commissioni agli agenti salta ma poi è stata lanta, adesso io non voglio entrare nel merito perché non so bene come funziona ma se vuole veramente Karlsdorp, ma è possibile che basta un problema del genere e buttire tutta la trattativa, cioè che cavolo cioè se c'è intenzione di portarla avanti una cosa del genere si porta avanti come è successo? cioè nel senso, per quanto riguarda un esempio simile tra Spinazzola e Politano ricordate bene com'era successo in quel caso ci sta che la trattativa si sia bloccata perché la Roma si è sentita presa in giro quando l'Inter ha richiesto nuove visite mediche e l'affare alla fine non si è più fatto anche in quel caso è stata un'enorme scazzata però in questo caso io non capisco ma se tu vuoi veramente Karlsdorp, lo consideri il sostituto ideale di Attebor stavolta so che Attebor e non Castagne mi sono confuso oppure la uno dei due era Castagne? oddio non mi ricordo, mi riconfondo comunque se tu lo consideri il nuovo giocatore per la fascia destra cioè questo è un problema, entoria risolvibile invece loro appena c'è stato questo problema no andiamo su Zappacosta così come se niente fosse vabbè contenti voi contenti tutti, più o meno adesso come ci ritroviamo? adesso noi ci ritroviamo con quattro giocatori in una sola zona del campo perché ci troviamo con Florenzi che non ha questo gran mercato e sembra che potrà rimanere Bruno Perez che piace al mister e quindi difficilmente partirà Santon che dovrebbe partire anche lui al Besiktas sembrava cosa fatta no non è più fatta perché vuole restare in Italia come sempre e adesso è rimasto anche Karlsdorp per carità il tempo c'è per poter concludere queste trattative ma prima le facciamo e meglio è invece arriva sempre un problema all'improvviso che ci fa che ci rovina i piani poi non penso tanto all'aspetto mentale del giocatore molti sicuramente adesso diranno è ormai se lo vuoi provare a tenere quando era fatta la sua cessione mentalmente il giocatore non ti risponderà più non è proprio così perché per quanto riguarda Spinazzola ad esempio ha fatto molto meglio dopo la cessione mancata all'Inter che prima a parer mio quindi può essere anche una sorta di motivazione per il giocatore per far per mettergli in testa che vuole dimostrare alla Roma di essere un giocatore forte cioè sicuramente può essere una motivazione in più o una in meno eccoci dipende un po' dai punti di vista però lo ripeto per me il giocatore poteva essere ceduto tranquillamente molti adesso sto leggendo che mi darebbero un'altra possibilità perché comunque è un esterno offensivo che nel 3-4-2-1 può dire la sua questo è vero per carità di Dio però lì siamo veramente sovrabbondanti cioè Florenzi io non lo cederei e già lui è uno Bruno Perez può essere la sua riserva ci sta nelle ultime giornate da quando è ritornato da gennaio per me non ha fatto male quindi Bruno Perez può rimanere basta poi quanti ne vuole avere 3, 4, 5 c'è di Sant'Ono ok ma Carstor che fa ti rimane a Roma a fare il terzo esterno d'attacco il terzo esterno di centrocampo destro boh non ho idea ragazzi non ho idea però vi dico la sincera verità queste cose mi stanno cominciando ad infastidire perché io capisco benissimo che cedere questi giocatori non è facile ci mancherebbe altro comunque sono giocatori in alcuni casi avanti con l'età che prendono uno stipendio importante vedi anche Perotti Perotti fatta al Fenerbahce invece niente 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 ci riteniamo ancora tutti non ne diamo via nessuno e rimangono tutti sul gruppone ci rovinano il mercato quindi io veramente ne ho anche parlato con la mia ragazza perché comunque ogni tanto ci divertiamo a parlare un po' di calcio lei dice che alla fine la colpa non è tanto più del giocatore quanto più di chi ha fatto il contratto perché chiunque al posto loro si terrebbe i soldi anche a rischio di non giocare più io sono d'accordo però al tempo stesso se a me piace fare il mio lavoro e cioè il giocatore o perlomeno io cerco di far vedere che mi piace fare questo lavoro o nel caso ad esempio di One Jesus che amo i colori giallorossi rimanere qua sapendo che non giocherai mai e sapendo che la Roma bisogna di cederti per poter fare acquisti importanti non è una gran dimostrazione di affetto ecco diciamo che se tu veramente ci tieni a questi colori dai una mano andandotene a fanculo ecco scusate il termine perché comunque è una cosa davvero davvero stancante io mi auguro che nei prossimi giorni le voci diventino realtà e adesso non credo più a niente non credo più a giocatori vicini giocatori fatti per ora l'unica accessione che abbiamo fatto è quella di Kolorov che non era neanche uno di quegli esuberi particolarmente importanti un giocatore che si poteva cedere ma si poteva anche tenere ecco credo che sia sì Kolorov sia l'unico poi vabbè c'è Fusato che è andato a un prestito e pochi altri queste sono le uniche manovre in uscita che abbiamo fatto dobbiamo cedere a parer mio almeno altri dieci giocatori su ogni zona qualche difensore centrale qualche centrocampista almeno dieci giocatori bisogna cedere spero che si riesca a concludere il tutto perché ogni volta non è possibile che debba sempre esserci un problema adesso sto ripensando a Schick cioè l'affare fatto tutto tranquillo no il dirigente ci ha dovuto avere il corona ma vaffan veramente lasciamo perdere comunque ragazzi niente fatemi sapere nei commenti invece voi cosa ne pensate di questa notizia se siete contenti perché magari volete dare un'altra possibilità all'olandese oppure se come me è stato un pochino rosicando perché quando almeno avresti usato quei soldi per prendere un altro giocatore o in ogni casa avresti comunque diminuito il numero dei giocatori rosa in questo momento ci vediamo questa sera al 99% per la live reaction di Olanda Italia che farò sul mio canale Twitch il gradatore giallorosso non vi potete sbagliare un saluto e sempre e comunque forza a Roma ciao ragazzi ciao